Nell'estate 2006 un distinto signore sempre gentile e ben vestito viene rapito mentre sta tornando a casa nel centro di Milano. Viene portato in un vecchio edificio in provincia di Modena e rinchiuso lì per due giorni. Una notte viene prelevato dai suoi rapitori, portato sul greto di un torrente in provincia di Parma e lì viene ucciso con un colpo di pistola sparato alla nuca dalla distanza di un metro. Il suo corpo viene poi sezionato in sette parti, rinchiuso in sacchi di plastica neri e sparso sotto un cavalcavia in disuso a qualche decina di chilometri di distanza. Ora questo sembrerebbe un fatto di cronaca nera come insomma altri che siamo abituati a leggere sui giornali, in realtà non è così. Quest'uomo era un finanziere molto famoso, un finanziere dell'Opus Dei che negli anni 80 e 90 era stato all'apice, al vertice della finanza italiana, tanto da essere considerato l'anticuccia cattolico. Si chiamava Gian Mario Roveraro. Roveraro come sappiamo era un finanziere ed era tra l'altro un uomo cosiddetto vetrina dell'Opus Dei, uno di quelli che poteva dichiarare la propria appartenenza, un uomo che nel corso della sua vita aveva raggiunto un successo considerevole. Era stato un atleta, un campione nazionale di salto in alto, era stato tra i fondatori della Sige, la banca d'affari del gruppo IMI e dopo la Sige aveva fondato l'Agros. Un'altra banca d'affari a cui avevano aderito come azionisti tutti i più grandi esponenti del capitalismo italiano della seconda metà degli anni 80. Si era imbarcato in una misteriosa operazione finanziaria internazionale insieme a personaggi improbabili, un faccendiere che aveva precedenti penali, un ex bancario, un sedicente ingegnere romano vicino all'Opus Dei, un fiduciario svizzero e un giovane, un quarantenne di Parma che faceva il lavoro di investitore, di gestore di risparmi fai da te. Ora l'assassino e i suoi complici vengono catturati qualche giorno dopo l'omicidio, vengono processati e condannati all'ergastolo in via definitiva. Sembrerebbe un caso semplice, quindi un processo veloce che ha trovato il responsabile che è stato condannato. Ecco, in realtà noi rileggendo le carte dell'inchiesta e seguendo il processo in aula ci rendiamo conto che così non è, perché l'inchiesta lascia delle zone d'ombra abbastanza inquietanti, dei punti oscuri che non vengono trattati, non vengono approfonditi, soprattutto per quanto riguarda questa operazione finanziaria. Ecco, alcuni testimoni che vengono ascoltati sia in fase di indagine sia durante il dibattimento, sostengono che i proventi milionari di questa operazione sarebbero dovuti andare a strutture dell'Opus Dei. L'Opus Dei è un'organizzazione della Chiesa dichiarata a prelatura personale da Giovanni Paolo II, è una diocesi extraterritoriale della Chiesa. Gli uomini dell'Opus Dei, gli uomini e le donne dell'Opus Dei sono dei laici, sono laici sia i numerari, cioè coloro che hanno dedicato, che dedicano tutta la loro vita all'organizzazione, che vivono in residenze dell'Opus Dei che hanno fatto voto di celibato e che hanno degli obblighi di preghiera molto pressanti, sia i soprannumerari, cioè coloro che invece possono sposarsi. Uno dei principi fondamentali sui quali si basa la dottrina di San José Maria Escrivà, che ha fondato l'Opus Dei nel 1928, è la santificazione del lavoro. Cioè i componenti dell'Opus Dei attraverso il loro lavoro, attraverso il loro lavoro quotidiano, devono raggiungere la santificazione, cioè avvicinarsi a Dio. Questo è uno degli elementi più caratteristici, più innovativi dell'Opus Dei. Indagando sul caso Roveraro, abbiamo scoperto la rete di società che fa capo agli uomini dell'Opus Dei della prelatura dell'Opus Dei. Si tratta di società che hanno un controllo azionario opaco, perché accanto agli iscritti dell'Opus Dei che vi partecipano con quote minime frazionali, il controllo di queste società fa capo sostanzialmente ad associazioni e fondazioni nei cui consigli di amministrazione ritroviamo gli uomini dell'Opus Dei. Il problema è che le associazioni e le affondazioni non hanno azionisti né obblighi di deposito di bilancio. La struttura azionaria di queste società è poco trasparente. Questo induce a pensare che tra queste società e l'Opus Dei possano esservi dei canali di finanziamento, anche se l'Opus Dei ha sempre negato questo fatto dicendo che le società a cui partecipano gli iscritti non hanno nessuna relazione con la prelatura che si dichiara praticamente povera e che possiede, l'unica cosa che possiede è l'immobile di Villa Tevere ai Parioli che è praticamente la sede privatizia. Una delle più importanti società che abbiamo scoperto è per esempio la DGI che ha una struttura azionaria come quella che ho appena descritto e che controlla alcuni dei più importanti immobili di Milano dove sono insediate le principali strutture di apostolato dell'Opus Dei come per esempio la Fondazione Rui che gestisce le residenze universitarie o come il FAES che promuove scuole di ogni ordine e grado. Ci siamo per esempio imbattuti in un'altra società che è la fiduciaria Giardini che rappresenta uno snodo importante promossa da uno dei più importanti soprannumerari dell'Opus Dei in Lombardia, uno dei primi iscritti, degli iscritti della prima ora e che è stata tra i promotori per esempio del campus biomedico che è probabilmente la più importante iniziativa dell'Opus Dei degli ultimi decenni e che gestisce a Roma un importante centro spedaliero. C'è anche la presenza dell'Opus Dei nella vicenda Parmalat. Quello che emerge dalla nostra inchiesta è che in Svizzera nell'ambito di una certa operazione che è stato oggetto di indagine da parte della magistratura che ruotava intorno a un personaggio, un manager di Bank of America, vi fossero delle persone in qualche modo vicino alla prelatura dell'Opus Dei. Questa è una novità assoluta perché mai prima di ora erano emersi questi collegamenti, se non il fatto che Roveraro, che come sappiamo è stato un importante esponente dell'Opus Dei, attraverso l'Agros aveva portato in borsa la Parmalat. Questo fino ad oggi era stato l'unico elemento di conoscenza. Con la nostra inchiesta siamo riusciti ad aggiungere altri fatti. Partendo quindi dalla storia di Cronaca Nera, dell'omicidio, abbiamo ripercorso tutta la vita di Roveraro. Abbiamo incontrato e ascoltato una serie di personaggi che con lui hanno lavorato in passato e che gli sono stati vicini anche nelle ultime settimane di vita e piano piano ci siamo addentrati dentro i meandri, se così possiamo chiamarli, dell'Opus Dei e abbiamo svelato, e questa è forse la novità del libro, abbiamo svelato quella che è la costruzione della struttura societaria di tutte le fondazioni, associazioni e società che gestiscono le attività e il patrimonio immobiliare dell'Opus Dei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.